I carabinieri della stazione di Salemi hanno tratto in arresto per i reati di detenzione illegale di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane pregiudicato straniero. I militari dell'arma, che da tempo monitoravano il comportamento del ventenne, hanno deciso di eseguire una perquisizione presso il centro di accoglienza dove lo stesso è ospitato e domiciliato. All'esito dell'attività sono stati rinvenuti circa 75 grammi di hashish con relativo materiale da taglio e confezionamento, oltre a una pistola modificata con tanto di munizioni funzionante e detenuta irregolarmente. Il ventenne è stato tratto in arresto e a seguito dell'udienza di convalida è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni della settimana, mentre l'arma e la droga sono state sequestrate per ulteriori accertamenti.